Come trovare i primi clienti come fotografo versus strategia? Che cosa vuol dire e quali sono esattamente le differenze tra l'iniziare a trovare appunto i primi clienti appunto facendo dei lavoretti magari come fotografo rispetto a creare una vera e propria strategia che poi in realtà ti porta ad avere molti più clienti. Se ti interessa questo argomento, se stai cercando appunto di trovare i tuoi primi clienti come fotografo e vuoi avviare un'attività di fotografo professionista ti consiglio di guardare assolutamente fino alla fine questo video perché sono dei concetti che per quanto banali tra virgolette se vuoi anche sottili nelle differenze appunto tra queste due cose ti possono dare degli spunti davvero molto importanti e potrebbero già da subito aiutarti a svoltare appunto quelli che sono i tuoi tentativi appunto per iniziare a lavorare come fotografo. Ma intanto se non mi conosci molto brevemente mi chiamo Anselessandra sono un fotografo freelance specializzato in ritratte still life che negli ultimi anni dedica sempre più tempo alla formazione proprio per aiutare foto amatori di qualsiasi livello a migliorare quelle che sono le proprie competenze e avviare un'attività sicura nel modulo della fotografia chi fosse interessato in descrizione trova dei link che portano a delle risorse gratuite detto questo passiamo a quello che è l'argomento di questo video quindi qual è la vera differenza tra l'iniziare a cercare semplicemente qualche cliente che va benissimo all'inizio chiaramente quello che un po' tutti facciamo o comunque che abbiamo fatto rispetto a iniziare sin da subito a creare una strategia che poi in fin dei conti sicuramente ha l'obiettivo di trovare dei clienti appunto come fotografo ma c'è una sottile e non tanto importante differenza ovvero nel primo caso quello che si fa banalmente appunto iniziare a cercare di attrarre magari verso di noi o comunque contattare in qualsiasi modo appunto dei primi potenziali clienti per poter offrire quelli che sono i nostri servizi da fotografo e magari iniziare a fare qualche lavoretto iniziare anche a creare un portfolio magari che ci possa aiutare in futuro che va bene soprattutto all'inizio per iniziare a fare esperienza a crearsi il portfolio eccetera eccetera ma c'è un unico grande problema ovvero nella maggior parte di casi si perde di vista o completamente magari non si ha magari già dall'inizio una visione più ampia di quello che può essere appunto una strategia più completa che non soltanto ti permette di trovare i primi 2, 3, 4, anche 5 clienti ma ti permette poi di strutturare un sistema molto più complesso che ti permette invece di avere molti più clienti e in maniera costante e continuativa ti porto subito un esempio pratico che fa parte del mio bagaglio quindi della mia esperienza, della mia gavetta sperando che appunto tu non debba fare appunto gli stessi errori cosa ho fatto io all'inizio appunto per iniziare a promuovermi come fotografo magari per piccoli eventi, per servizi fotografici e iniziare a raccattare appunto qualche cliente a fare qualche soldino, ho iniziato nel mio caso appunto con gli eventi sportivi cosa facevo in quel caso? mi andavo semplicemente a proporre di persona a quelli che erano magari gli organizzatori appunto degli eventi sportivi per fare appunto determinati tipi di servizi fotografici offrendo appunto magari diversi pacchetti, diverse soluzioni quello che sbagliavo di fatto era intanto propormi senza avere prima un posizionamento chiaro ovvero andavo semplicemente lì presentandomi come un fotografo con la macchina fotografica che ti può fare appunto questo determinato tipo di fotografia la conseguenza è che per riuscire a portare a casa quel lavoretto non potevo che fare dei prezzi più bassi rispetto a quello che poteva essere la media magari per cercare di andare a competere con quelli che erano gli altri fotografi quindi sicuramente è stato un modo come tanti appunto per iniziare ma la verità è che con quelle persone appunto con il quale ho iniziato con quelle condizioni che ad oggi non accetterei mai ma sono passati diversi anni con quelle stesse persone non potrei mai andarmi a riproporre con quelli che sono i prezzi che invece andrei a proporre ora e dato che è vero che la prima impressione è quella che conta di più io nella loro testa sono rimasto come il fotografo con la macchina fotografica che andava lì per quel tot di soldi per quel tot di tempo e offrivo quel tipo di servizio fotografico se mi dovessi proporre adesso con quelli che sono i prezzi che farei che sarebbero quantomeno quintuplicati rispetto ad allora è chiaro che non mi sceglierebbero mai perché oramai sono rimasto nella loro testa come il fotografo che prende magari tot soldi comunque appunto a servizio fotografico dopodiché diciamo per fortuna ma è stata più che altro una scelta mi sono comunque orientato su altri generi della fotografia mi sono specializzato appunto poi più sul ritratto, sullo still life ho iniziato a fare appunto più che altro fotografie di matrimonio di ritratti studi eccetera eccetera da lì diciamo mi sono comunque costruito poi un effettivo posizionamento che diciamo mi ha piazzato subito percettivamente rispetto appunto ai potenziali clienti in tutt'altra maniera però appunto questa è stata una cosa che ho capito dopo se avessi voluto continuare appunto in quell'ambito degli eventi sportivi avrei fatto molta fatica o avrei comunque addirittura dovuto azzerare tutti quelli che erano i contatti presi anche con una certa fatica in precedenza perché dovevo semplicemente poi andare a ricostruire tutto quello che era il lavoro che avevo fatto ma proponendomi sin da subito in una maniera più corretta e cos'è che mi ha permesso di ripartire in questo nuovo ambito della fotografia in maniera più corretta, professionale così da far percepire sin da subito a quelli che erano i potenziali clienti il valore aggiunto che potevo dare con i miei servizi fotografici e di conseguenza appunto fare anche dei prezzi più alti semplicemente il fatto di partire da una strategia chiara e precisa quindi prima di tutto andare a fare un'analisi di quello che è il mercato capire quello che è il target al quale mi volevo andare a riferire dopodiché andare a strutturare una comunicazione, un posizionamento quindi come loro percepivano me fargli capire appunto tutti quelli che erano i punti di forza rispetto magari alla concorrenza e questo ti assicuro che ha fatto davvero un'enorme differenza soprattutto nel tempo perché se è anche vero che probabilmente è più facile chiaramente non stare lì a perdere tempo tra virgolette appunto a cercare di posizionarsi in un certo modo magari fare anche un sito in una certa maniera iniziare a pubblicare dei portfolio che abbiano un senso spendere più tempo magari a studiare una vera e propria strategia fare una giusta analisi di mercato sono tutte cose che chiaramente occupano del tempo però ti assicuro che ne vale assolutamente la pena perché il fatto di andare a raccattare appunto dei clienti così senza metodo in maniera così occasionale è davvero un qualcosa che non ti porta da nessuna parte potrai andare avanti forse un mese, due mesi ma vedrei che a un certo punto diventa una cosa insostenibile perché se non c'è alla base una strategia dietro quindi il capire come iniziare a posizionarsi sin da subito non tra uno o due anni dopo che hai fatto dei lavori magari con dei prezzi ridicoli ma iniziare sin da subito a farti conoscere come il fotografo che può andare a risolvere magari determinati tipi di problemi quindi effettivamente andare ad attrarre sin da subito un certo tipo di pubblico sì lo ripeto richiede più lavoro però è un qualcosa che decisamente ripaga nel tempo quindi per riassumere il contenuto di questo video va bene iniziare a cercare i primi clienti è sicuramente giusto però fallo con un'idea con una strategia dietro e che sia anche ben chiara e precisa perché se inizi a farlo senza metodo in maniera occasionale semplicemente sperando appunto di fare qualche soldi in maniera così un po' arraffazzonata ti assicuro che non fai altro che bruciare il terreno davanti a te perché poi per andare a costruire un qualcosa di serio un qualcosa di concreto che poi effettivamente può diventare scalabile e anche sopportabile nel lungo termine dovrei andare a fare ulteriore lavoro in più detto questo mi auguro che queste informazioni ti possano essere realmente d'aiuto se vuoi approfondire di questi argomenti ti ripeto in descrizione trovi già delle risorse gratuite che ti possano andare a dare un'idea di cosa fare effettivamente appunto per andare a migliorare questo tipo di situazione magari anche andare a creare insieme una strategia che può essere valida soprattutto per chi inizia o anche per chi magari non riesce ad avere i clienti che effettivamente vorrebbe quindi per questo video è tutto mi auguro di vederti presto ciao e alla prossima